musica buono, dopo la parte commerciale guarda come sai la nostra Big Game Lottery è venuto a tutti i giorni abbiamo la nostra Facebook page Pro Info Criollo e il numero non sali e anche localmente il nostro è il mio Giawe Big Game Lottery è il numero 3 ma per cortesia di Big Game Lottery che cosa ha fatto? 90-10-3 90-10-3 si intende che è saluto a ieri mi sono comparto a ieri però oggi è 90-10-3 90-10-3 e se vuoi tenere una volta è 93-90 se vuoi tenere una volta è saluto sicuro 90-10-3 non si poteva un 55 ma come andè sali due cammini due cammini la sali è vero non si intende niente mi sono con un cuchara e plata noti qui non mi saluto niente saluto per il nuovo saluto a ieri Welton Papi Sprit e anche il nostro amico Erno Job e anche il nostro amico Erno Job e anche il nostro amico Erno Job e anche il nostro amico 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 con altri artisti con variati 868 4386 e anche il nostro amico di 55 florini in generale sentiamo alla messa ma solo è facilità è un bai sacco è un cumpro ma non è? ma non è? ma non è? facilità tranquillo che come che bebe e la differenza ma non è? quali hanno? 868 43865 1035 1135 13 ore 14 ore 13 e mei 14 ore 8 ore 8 ore astacata ree? e? astacata buon, 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 buon se e che non conosce bisibra ma non è l'unità america che vuoi cercare l'auto, eccetera, eccetera. Allora, non stavo da papi, non sei, papi sa di, entre altri, però c'è un desbalance della nostra democracia e della nostra gobernazione. Sì, fratelli. C'è un bel giorno prima di me, mi abba, Mattei Werner, mi ha fatto parte della centrale sindicale, una celebrazione. E non. E' lìdera sindicale, come a topare, mi ha visto cada uno, e non. Mi opinione è quello che vuoi fare. Quattro, Frances. Non ha visto che la democracia è un sistema migliore. Mondialmente, l'opinione è pretendo che la democracia sia migliore per governare un paese. Ma se vuoi dire, non c'è altro sistema, non ha criticato il sistema, ma anche l'America sta evadendo il paese. Non ha visto che la democracia. Ma se vuoi dire, per restaurare la democracia, e criticare il più grande contro il sistema di Nicolás Maduro, non ha visto che il dittatore, non ha visto che il dittatore, non ha visto che il dittatore. E questo è un dittatore. E questo è un dittatore. che può aiutare a governare il paese. E questo è un dittatore. E questo è un dittatore. E questo è un concetto, ci sono oggi. E questo è un dittatore, e questo è il sindicalismo. non sta accionando per me non per me è di me tenere un organo che non si chiama collaborativa o diálogo nazionale a me mi è recomendato a cambiare il nome a me è di me dialogare nazionalmente non è vero non è un asunto è sindicalista è un representante sindical a consultare con la maggior parte è un sindicalismo è una decisione di una maieria cada sindicato che ha un mandato di un miembro per attender cosa non è una situazione che manda demasiado via una decisione di un paese che sta accostando malgastamente per non poter metter un diponente manda un ingustente che sta accostando la corte che sta accostando con la maggior parte che sta accostando il sindicalismo è un sindicalismo è un sindicato non è un miembro è un partito è un ministro che sta accostando qualcosa che non è vero è un ministro che sta accostando che sta accostando con un'analisi un miembro che sta accostando 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 con l'abuso laborale abuso laborale significa che non è più violazione di lei laborale che sta esistendo Francesco am정 che sta accostando non è necessario che sta accostando con l'argomento non è necessario ammigliare l'argomento che non è anche affichata che sempre spiego ma è una parte di risposta di sicuro sempre la situazione non è necessario come è importante tanto Francesco ammigliare gli ammigliare ammigliare in generale per la governazione per il sindicalismo e per la iglesia ma che pilota nel nostro paese sta qui da qui da ruone andiamo a dire che ci sono ma scuola la settimana passata ha fatto un trago con la perda di subito facendo un trago di sicurezza mi sta qui da mostra la sicurezza sta un matere arriva su mese sta un trago arriva su mese quindi la forma che ti voglio praticare è una forma parotin camina e rende e non importa la sua nacionalità non importa la sua descendiente lo qual è importante un tattico famiglia un rende e se le fai su casa vai trà e ti vai cuida un valor di un negozio di un milione non ti pagare non ti organizare il lavoro di una dreti e ti va a trà non ti esistir un rende trà a noti su sol e acaba per creare una situazione di insegurità scuola sta un situazione di insegurità ma che non non ti pagare la sicurezza Non è valore di un milione, né nel suo messo. Alla qui ci sono andati, Veniamo in un luogo, e non c'è un po' di sintonizzazione. Correcto. Un po' di pape. Un aspecto di sicurità. Ok. Quando, in una a mei, due ore, c'è un patrullo di andare a vedere. Ma non c'è un patrullo? Non c'è un patrullo. Da un giorno non c'è un patrullo. Ma non c'è un patrullo? Ma non c'è un'altra cosa? Ma non c'è un patrullo? Ten fort. 10, 4. quindi ok, non stai tranquillo non è bravo che è gai non è per eliminare non è per eliminare e non è il punto di fare un milione è difficile e negociare quanto sei invertito per cuida è un milione quando c'è un momento parlamentare governante lei domina il Parlamento e lei che regolano l'organizzazione di segurezza e c'è un momento se davvero che il governo ha entrare di compagnia di segurezza passa le le parlamentare mia amica c'è un momento passa le 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 10-10-10 passa le le e cammini da obligare la compagnia di segurezza di organizzare e praticare la base di segurezza e il rispetto il rispetto di quando che è un momento che è un momento di segurezza che è un momento ma che è un momento che è un momento di segurezza parodin segurezza è una materia di prossimo che mi ha fatto un aspetto di segurezza che è anche parte di rispetto per acercare la gente che mi ha fatto il nostro paese che mi ha fatto un gai di segurezza che mi ha fatto un link con la autorità che mi ha fatto mai proibire che ci sono che ci sono che ci sono un agente di segurezza non mi ha fatto un po' ma ci sono un agente di segurezza ci sono un preparazione di segurezza non è per trascosso non è per trascosso non è per trascosso ogni edificio ha fatto un plan di segurezza un analisi di rischio quindi mi ha fatto un po' che tipo di segurezza si è in questo caso è costruito non è in questo caso in Holanda si è stata obbligata che ci sono un'agente di segurezza e ci sono un'agente di segurezza che si è in questo caso che ci sono un'agente di segurezza per motivo di una forma di praticare la segurezza ci sono un'agente di segurezza e mi ha fatto una cosa come prima daży港ata la gente è stata 에stralizzata militare si è in questo caso quindi ci sono ing 몸ini ricordati io avevo un uke toki e ci sono incontrato di avere un uke toki che si è in questo caso Uffa? Come se sainte la frente? Dossa, mi noia cosa strana? Chiaga, 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 chiaga lì Luz, avion, bing E' Math! Edi... Cantor, cantor. Atenzione. Cantor, eskutci mi buono. Mi papa è fantastico. Ho piuto una cosa strana qui. Beleza, mi ha scoperto. N'altro. Ti ho incontro di quella cosa, la gente ha molti articolo. Baila con la guacchia e guacchia Basta morirlo non è che alla fine, un fin di si mandouci di parte del entero, l'equipo di CBA Julian, mio amico Jordan è un cantor, Master Rumi di parte di Roso, Joe Marchene, da me francese per te, non so se si ha un douchi weekend, cuida, curpa e come a me ne vai troppo il weekend qui come se ne andano in due placas di saco vai poco a poco ciao, loco, io so per noi, è un tremendo programma per preparare questo è un programma interessante si gina attraverso di CBA Television e per pro-info Turcos buong, se già luna, cuida, curpa